Ci metti la TAV che non serve, perché cosa vuoi che serva andare in treno velocemente da Torino a Lione? Non serve l'alta velocità da Roma a Bari. Hanno provato a fare vari cantieri a Bari facendo ricorso, accolto da un TAR, perché poi abbiamo anche il tema della giustizia e non è quello di oggi, amministrativa, civile e penale, ma ne parleremo. No, bisogna fermare l'alta velocità fra Roma, Napoli e Bari, che sarà una grande alternativa all'aereo e quindi sarà la decarbonizzazione vera. La decarbonizzazione non è la cazzata di mettere fuori legge le auto a benzina e a diesel che è solo un regalo alla Cina, che è solo un regalo alla Cina, che paga, che paga. La decarbonizzazione la fai lasciando una possibilità di scelta che oggi deve usare o l'aereo o la macchina o il camion e quindi se vai in tre ore da Roma a Bari puoi scegliere come da Roma a Milano, una volta non c'è la scelta, vado in aereo. Adesso con l'alta velocità io oggi pomeriggio torno a Milano con mia figlia in treno e uno potrà da Bari a Roma e viceversa scegliere il treno e quindi decarbonizzi. Non è che decarbonizzi col monopattino elettrico di Toninelli, nulla contro Toninelli per carità di Dio, però... Ebbene, noi abbiamo avuto dei ricorsi con un tribunale amministrativo che ha accolto ricorso e ha fermato, fortunatamente per poco, il cantiere perché laddove doveva scorrere la ferrovia c'erano dei mandorli e dei carrubbi. Io adoro il mandorlo e il carrubbo, però la domanda è ma è più facile spostare di 200 metri un mandorlo o una ferrovia? E questi sono i professionisti del no, che non va mai bene niente perché metti che l'Italia si infrastrutturi e si sviluppi e poi ci tocca lavorare, e poi ci tocca lavorare. Sono quelli che preferiscono l'Europa che ti paga per non lavorare. Io ringrazio il movimento, le associazioni, noi siamo ospiti di Coldiretti e Confagricoltura e CIA e il popolo dei trattori che si è ribellato civilmente. Guardate la differenza. Quando ci sono migliaia di lavoratori in Italia che scendono in piazza chiedono il permesso alle istituzioni e si scambiano battute e sorrisi strette di mano con i poliziotti e i carabinieri perché sono donne e uomini che lavorano e scendono in piazza per il diritto di lavorare e hanno costretto l'Europa a fare marcia indietro perché l'Europa con la politica agricola comune pretendeva di erogare i suoi fondi che poi, attenzione, ho visto l'amico Bagnai, altro pericoloso rivoluzionario, i fondi europei, altro non sono che i soldi che gli italiani mandano in Europa e poi tornano indietro perché non è che i fondi europei nascano a Bruxelles sono i soldi degli italiani, dei francesi, dei tedeschi, dei danesi che poi tornano indietro e avrebbero voluto dare i fondi europei della politica agricola comune a patto che i contadini lasciassero incolti una parte dei loro campi. Cioè ti pago per non fare il contadino. Lo stesso per i pescatori. Ti pago per non andare a pescare. E gli alleventi è ti pago, allevatore, ma tu non mungere perché intanto in una fabbrica danese su cui le multinazionali stanno investendo 300 milioni di euro stanno sperimentando il latte finto senza vacca prodotto sintetico da laboratorio che poi servirà per fare il formaggio finto.